Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 12 dove a causa di lavori si registrano code a tratti tra Carrare e Versilia in direzione Livorno e tra Carrare e l'allacciamento con la 15 in direzione Genova. In Fipili invece a causa del traffico intenso code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. In A1 panoramica a causa di lavori di ripristino danni causati da un incidente è chiuso il tratto tra Pian del Voglio e Aglio in direzione Roma. Sul raccordo Sena-Firenze si ricorda che per interventi di potature è in vigore fino al 2 dicembre uno scambio di carreggiata all'altezza dello svincolo di Colle Valdelsa Sud che è chiuso in entrata in direzione Firenze. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!